Secondo un nuovo rapporto dell'Unicef in Yemen, dopo l'escalation di violenza a marzo 2015, sono nati oltre 3 milioni di bambini. Il rapporto Born into War, nati nella guerra, denuncia che un'intera generazione sta crescendo senza conoscere altro che le violenze. Secondo il rapporto, oltre 5 mila bambini sono stati uccisi o feriti a causa delle violenze. Una media di 5 bambini ogni giorno da marzo 2015. E' stato diffuso in questi giorni il rapporto dell'Unicef sulle condizioni dei minori in Yemen e sui 3 milioni di bambini nati durante la guerra. Il documento Born into War, nati nella guerra, spiega come i bambini in Yemen siano stati segnati da 3 anni di violenze, sfollamenti, malattie, povertà, denutrizione e mancanza di accesso a servizi di base, come acqua, assistenza sanitaria e istruzione. Il documento del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia delle Nazioni Unite riporta una dettagliata descrizione meticolosa del disastro sociale e umanitario causato dal conflitto, riferendo che oltre 5 mila bambini sono stati uccisi o feriti a causa delle violenze. Una media di 5 bambini ogni giorno da marzo 2015. Oltre la metà dei bambini del paese non hanno accesso ad acqua potabile o servizi igienici adeguati. Circa 1,8 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta e 2 milioni non stanno andando a scuola, di cui quasi 500 mila hanno abbandonato il percorso scolastico dall'inizio del conflitto a marzo 2015. Presente anche la piaga delle spose e bambine, tre quarti di tutte le ragazze sono sposate prima di compiere 18 anni. Un'intera generazione di bambini in Yemen sta crescendo senza conoscere altro che le violenze. I bambini in Yemen stanno subendo le conseguenze devastanti di una guerra che non hanno causato, ha dichiarato Merixel Relagno, rappresentante UNICEF in Yemen. Infine il rapporto invita tutte le parti in conflitto, coloro che esercitano influenza su di esse e la comunità globale, a porre come priorità la protezione dei bambini, osservando gli obblighi derivanti dal diritto internazionale umanitario e fornendo accesso sostenibile e incondizionato per portare assistenza a ogni bambino che ne ha bisogno.